Radio Luna Si sale per quanti chilometri, non ricordo? Cinque Cinque chilometri, una strada non è rovinata, quindi facilmente raggiungibile Se vi fidanzate a Lucito non avete problemi di viabilità Abbiamo parlato di Lucito, c'è tante cose, c'è un museo, una pinancoteca Insomma, ci sono alcune attività, diciamo quelle primarie, farmacia, posta, bar Alimentari Alimentari, insomma, c'è tutto il minimo sindacale proprio Però c'è anche una chiesa madre, mi pare, no? Come si chiama e che cosa si può visitare all'interno? Allora, la nostra chiesa madre è dedicata a San Nicola di Bari, il nostro patrono Ed è la più ricca della nostra diocesi a livello artistico Noi siamo nella diocesi di Termolilarino E all'interno della nostra chiesa c'è, forse la cosa di più pregio E' il quadro di Fabrizio Santa Fede, la Madonna del Rosario E' un'opera veramente da vedere, bellissima, di grande pregio Abbiamo anche la Sacra Famiglia dipinta dal Brunetti Un artista di oratino molisano E ci sono, mi viene in mente, un calice e un apisside d'oro Che ha utilizzato Santo Giovanni Padre Paolo II In occasione della messa che fece a Termoli E ce l'avete voi? Ce l'abbiamo noi, lo custodiamo noi Abbiamo dei paramenti sacri di grande valore E c'è la Via Crucis di Antonio Pettinicchi Ci sono dei quadri anche lì del maestro Pettinicchi E beh, è ovvio insomma Li abbiamo ovunque, sì Ma oltre al primo maggio ci sono rievocazioni storiche Processioni particolari durante l'anno Che ne so, Natale, Pasqua Una delle feste più sentite è la festa di San Rocco Che si fa ad agosto, il 16 agosto E al ridosso di questa festa abbiamo la nostra Sagra Di che? Invito tutti a venire a degustare il piatto di cacio e uovo Bellissimo E' ottimo, buonissimo Quest'anno si farà il 13 agosto E sarà allietata anche da musica Da musica, ci sarà un comico Ha organizzato la prologo che abbiamo in paese Tutto l'agosto lucitese Bellissimo, questo è importante da dire Quindi insomma voglio dire, è un paese vivace Sì, sì, non ci vogliamo annoiare Benissimo, e questa è una bella cosa Allora, da quello che abbiamo capito Lucito è un paese vivace, pieno di cose da visitare Servizi minimi essenziali Quello che manca è forse un B&B, un albergo, insomma la ricettività forse Allora, un B&B c'è in realtà Però sì, è vero La ricettività è un po' carente Questo è un punto da migliorare Cioè se accade un avvenimento importante che porta persone e non hanno dove stare Questo è il problema No, infatti Proprio qualche settimana fa Noi abbiamo ospitato un evento annuale Un concorso nazionale di poesie E vede venire poeti da tutta Italia Che però si appoggiano un po' sul campo basso Un po' nei paesi limitrofi Qualcuno nel nostro B&B Ma ovviamente Se no, un campeggio Mettete un camping Non è male Se ne viene in tenda Ce ne sono tanti a cui piace andare in tenda Comunque in un camping organizzato Quindi con i servizi minimi essenziali Insomma, voglio dire Può essere un'alternativa almeno d'estate, no? Eh, non è male come idea Ecco Sindaco, invece quando passeggi per strada per l'uscito Quale sono le cose? Cioè, viene fuori il sindaco o la mamma? O la donna? Che indica Qui deve pulire, quasi deve tagliare Credo che le cose vadano di pari passo Perché io, oltre ad essere il sindaco a Lucito Ci ho sempre vissuto E ci sto crescendo mia figlia Per cui qualsiasi cosa si possa fare Soprattutto per i ragazzi Ebbene, accetta Per cui ci guardiamo intorno Se c'è da migliorare, ad esempio La raccolta differenziata pubblica Stiamo pensando di farlo Se c'è da tagliare l'erba in un punto Lo si dice Sì, certo Ma c'è la raccolta differenziata a Lucito? Assolutamente sì Viene rispettata? Abbastanza E chi non rispetta viene multato? Viene invitato a rispettarlo Ecco Ho detto che siamo bravi Capito, però Insomma, bisogna essere attenti in queste cose Sindaco, abbiamo detto praticamente tutto Abbiamo scoperto che Lucito, oltre ad essere facilmente raggiungibile Senza stress di queste strade tortuose Il paese è bello, carino C'è un bel centro storico C'è una chiesa madre Abbiamo i servizi primari Il sindaco è giovane La ricettività perlomeno familiare c'è Manca magari quella fisica Ma insomma si risolve tutto A Natale cosa fate a Lucito? C'è qualcosa di particolare? Eventi particolari no Si sta molto in famiglia Ah ok Per questo Ma senti, ma vai in giro casa per casa A fare gli auguri Visto che siete pochi Hai visto Love Actually Quando il primo ministro andava in giro A fare Ci devo pensare quest'anno Non lo potresti fare Famiglie virtuose Che non hanno avuto Non sono state redarguite Per esempio Per aver sbagliato la raccolta differenziata O per aver Calpestato l'erba dove era vietato Il sindaco viene a casa Con gli auguri Un dolcetto Non è male Senti sindaco Fra poco ci salutiamo Però siamo in radio Insomma voglio dire Approfitta di questa cosa Magari vuoi dire qualcosa A chi ti sta ascoltando e vedendo? Veniteci a trovare Perché veramente C'è tanto da scoprire Qualcuno che è venuto Qualche Due stati fa In occasione della giornata di autunno Del FAI Ha scoperto Una piccola perla E Consiglio Anche a chi non è venuto Di farlo Perché È un paese che merita Da tutti i punti di vista In quanto sindaco Si è stata votata Non da tutti Ovviamente Ecco un messaggio Invece ai lucitesi Lucitini Lucitesi Lucitesi Un messaggio alla popolazione Vabbè intanto io ringrazio Chi mi ha votato È chiaro Pure chi non ti ha votato E ringrazio chi non mi ha votato Perché mi ha stimolato Ancora di più Ad essere perseverante Perché io L'ho detto dall'inizio Non faccio i conti Dopo la vittoria Ma tra cinque anni E quindi io Tra cinque anni Punto a recuperare È una buona fetta Delle persone Che non mi hanno votato Vabbè Noi fra cinque anni Ci ritroviamo qua E vediamo che cosa È cambiato a Lucito Va bene A questo punto Invita A venire a Lucito Gli americani Ecco Perché no A Lucito Gli americani Troveranno L'accoglienza I piatti tipici È un'ospitalità Che da noi È proverbiale E questo l'abbiamo capito L'abbiamo inteso Ne verremo a provare subito La consistenza Allora sindaco Grazie per essere stata con noi Buon lavoro Si dice No? Come si dice? Grazie Buon lavoro Sono io che ringrazio voi E a presto Grazie al sindaco Di Lucito Tiziana Franceschini